Sì, sicuramente, il mister da parte della squadra non è mai stato in discussione perché siamo stati tutti con lui e questa vittoria sicuramente è importante per il gruppo ma anche per il mister perché sentivamo che poteva rischiare ma noi siamo tutti con lui. Tra il primo tempo però è stato come al solito o almeno come era capitato ultimamente. Cosa vi ha detto tra il primo e il secondo tempo per farvi sbloccare in quel modo? Penso che ci siamo partiti comunque bene con il giusto entusiasmo, il giusto piglio. Poi piano piano al primo tempo abbiamo abbassato i ritmi e abbiamo sofferto un po' le loro ripartenze. Tra il primo e il secondo tempo ci hanno guardato in faccia e mi hanno detto che questa partita era da vincere visto che anche all'andata loro ci hanno battuto 3-0 e avevamo avuto anche contestazioni. Quindi siamo guardati negli occhi, mi hanno detto ragazzi dobbiamo vincere e siamo tornati in campo con un altro piglio.